Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, il canale del Dostano Nerd oggi andremo a vedere gli aggiornamenti che sono arrivati in game proprio del venerdì dopo qualche settimana un pochino monotona con pochissime notifiche e poche novità insomma relative proprio al gioco oggi invece andremo ad analizzare tutto quello che c'è da vedere come ci sono pronunciato mercoledì comunque c'è stata tanta roba, tanta canne al fuoco come vedete c'è tantissima tantissima roba e partiamo dalla campagna del rilascio del nuovo scenario insomma sto a dire due cose molto veloci sapete benissimo come la penso sotto l'aspetto delle notifiche insomma siamo tutti in grado di leggere e di vedere un pochino quello che c'è di nuovo relativo al gioco dopo l'aggiornamento insomma vediamo che c'è un nuovo step up banner con i nuovi giocatori dello scenario adesso andremo a vedere velocemente poi c'è il banner a pagamento di Luis Fago che sarebbe figo però vabbè insomma dettagli e poi c'è sia quella a pagamento che quella free io vi sconsiglio calorosamente di andare proprio ma in maniera assurda di andare a provare quelle free perché sono 50 dreamball a colpo almeno se volete prendere il giocatore vi interessa il giocatore piuttosto andatevelo sempre a prendere a pagamento poi dopo abbiamo le stazioni dreampot che ogni mese comunque ce ne mettono fuori una con giocatori interessanti specie questo roberto rosso che vediamo buono anche per passare tecniche a roberto verde e poi c'è il bonus accesso con tante palle nere tanti ticket tante palle di recupero d'energia nessuna dreamball ok non che comunque non ce ne abbiano date cioè insomma tra una cosa e un'altra ce ne hanno date veramente tante oggi e anche con le missioni evento che hanno inserito in questi giorni infatti adesso andiamo a vedere questo è un evento limitato una partita al giorno per ricevere palle nere e ticket lo si fa una volta al giorno e poi dopo ci sono le missioni evento come vi dicevo prima che hanno messo nuovamente completate un certo tipo di obiettivi e alla fine di queste riceverete riceverete dreamball riceverete palle nere riceverete ticket esercizi agendari adesso andremo a vedere in maniera molto veloce molto veloce pacchetti del negozio neanche sto dirveli li avete sicuramente già letti quindi non c'è bisogno che io stia lì a elencarveli tutti dopo la campagna c'è anche questo step banner riguardante la dream championship i giocatori della dream championship ci sono giocatori interessanti come costruiva hull che in questo momento qua è uno dei top giocatori in meta Hidalgo che è uscito nell'evento di qualche settimana fa con Ugo e gli eventi giocatori esclusivi di Takashi e poi ci sono questa è la cosa forse più bella che hanno messo in questo aggiornamento la sfida ai finalisti del dream championship insomma sono belle ricompense vedete qui ci sono 3 ticket SSR che sono tantissimi ticket SR c'è il Tammotsuide che è fondamentale e tantissime palle nere sono bellissime ricompense secondo me è un evento molto bello soprattutto pensando che ci si mette anche a confronto con squadre che hanno giocato proprio appunto alla manifestazione più importante del gioco e poi alla fine c'è questo assalto SSR con il nuovo Tsubasa che ha un dribbling sudamericano di tipo S sicuramente settimana prossima come hanno fatto come per tanti altri scenari sarà l'attentizzato con qualche giocatore che arriva da un banner che metteranno settimana prossima o magari usano quelli già messi questa settimana qui tipo i giocatori del Real Madrid poi c'è il time attack ritorno il time attack di Xiao e c'è il rinnovo nel mercato con le tecniche nuove poi c'è l'energia ridotta al 50% se fate scenari tutto l'esperienza per 5 ottimo modo per sire di livello col vostro account e monete se ne avete bisogno poi vediamo un pochino cosa c'è ancora tanta tanta carne al fuoco e c'è tantissima roba da vedere hanno reso latenti i giocatori del Real Madrid quelli usciti nel primo uno di gioco Roberto Carlos della quale io ci punterò clamorosamente quando uscirà io non ho nessuno di questi tre tempi che non ho pullato neanche con il mio primo account quindi Morientes e poi Guti giocatori che sicuramente avranno gli proposti presumo penso settimana prossima da quanto ho capito comunque dal lunedì saranno disponibili con un nuovo banner o banner a monete quindi avrete la possibilità se uno dovesse trovarle penso nelle 300 dreamball di andarli a prendere nel mercato monete per avviso invece molto velocemente arriverà una radunga a pagamento la radunga blu c'è qualche mese fa uscirà sicuramente col banner normale nel caso se vi interessa per la vostra squadra comunque un bel giocatore messo i pronostici volo a tosto da frontale online consiglio di prenderlo vi faccio vedere in maniera molto veloce anche l'evento, l'evento in sé come ho strutturato qualora non l'aveste ancora visto io ho fatto qualche partita oggi molto veloce ho già preso i tre ticket SSR non stiamo neanche a parlarne perché sono doppioni su doppioni vi vedo giocate contro, adesso vi ho schiacciato uno, avete la possibilità di ricevere palle nere adesso in questo caso c'è un Katagiri qui che è contro A.U Benzema e giocate anche per la dreamball di solito basta vincere le dreamball basta vincere 1 a 0 teoricamente ad estremo riuscite ad avere tutti e tre le ricompense logicamente cercare di farle perché comunque entro il 19 cioè tra due venerdì questo evento non ci sarà più però penso che per due settimane avete la possibilità comunque e il tempo di riuscire ad averli completati tutti insomma modalità strade disponibili come vi dicevo prima ci sono tantissime ricompense dreamball io ancora non ho cominciato quindi non so dire effettivamente cosa ci darà oltre le dreamball però è bello comunque poter essere aggiornati anche su chi effettivamente il manga non lo legge spesso e chi non è proprio aggiornato perché non l'ho letto più questo penso sia una parte di road to 2002 io sinceramente non sono molto aggiornato sulla cosa però non vedo l'ora comunque di farmi questo scenario e riuscire a oltre a prendere dreamball a capire un pochino come si sviluppa ancora una volta la storia di questa parte del manga andiamo a vedere in maniera molto veloce i giocatori che ci hanno proposto oggi nel banner odierno dell'edizione del nuovo scenario vediamo la novità soprattutto è il modo in cui riusciamo a vedere i parametri con questo tipo di nuova schermata che ci ha proposto la club molto bella sinceramente soprattutto perché secondo me fa più scena che altro io sinceramente mi affido sempre comunque ai valori del giocatore parliamo adesso di Rahil che penso sia Raul in questo caso è un bellissimo attaccante è un grandissimo tiro lui proprio un attaccante di quelli potenti insomma vediamo il tiro che ha a disposizione vediamo il momentum un 4.65 non il massimo per il meta di oggi però poi ha un dribbling un intercette un passaggio a diciamo che le tecniche penso siano sempre reperibili dal mercato del mercato dreamball da quanto ho capito però è un bel giocatore passiva per un attaccante secondo me nulla perché a parte riuscire a prendere palla non usufruisce poi del 30% quando poi va o a tirare o a matchare il prossimo difensore secondo me è una passiva comunque un po' particolare per un attaccante credo che non sia proprio il massimo insomma vediamo le abilità latenti ha un legame se ci sono troppi giocatori di tipo resistenza molto generico parametri di tutti i giocatori della squadra più 2% non male soprattutto pensando che ha un bond abbastanza facile da fare ha una linea diretta con naturezza parametri più 10% al prossimo comando se c'è un passaggio proprio da quest'ultimo resistenza piogge, pozzanghe terreno sconnesso sicuramente per l'evento che ci sarà da fare e poi l'annunamento del sigillo e delle abilità che fa sempre comodo si fa con le medagliate di rival non male insomma come giocatore non è male andiamo al al prossimo giocatore che è Ivangel Ivangel è un giocatore un difensore di tipo resistenza parametri tutto sommato si vede che è un difensore a 8.600 di contrasto un 7.900 di blocco non è il massimo è un intercetto 8.200 con maestria 5.7 non è non è non è un top secondo me il giocatore è un buon difensore ma sicuramente non è il top vediamo un po' se la passiva ci aiuta è un killer di 3 quartisti contro ci ha parametri più 20% capite che contro un attaccante questo giocatore qua praticamente è saltato 9 volte su 10 perché guardando i parametri anche se ha delle ottime skill difensive purtroppo secondo me non rende giustizia a parte forse il contrasto che riesce un po' ad aiutarlo con la velocità ma il blocco con la potenza e l'intercetto con la maestria fanno sì che questo giocatore sia un po' un po' situazionale secondo me assolutamente forse un killer di Tsubasa pensiamo un po' come killer di Tsubasa ma secondo me non è non è tutto sto gran sto gran che andiamo a vedere velocemente i bond i legami e le latenze vediamo se ci sono troppi giocatori del club di tipo R parametri dei giocatori più della squadra più di per cento va bene molto anche di semplici da fare questo invece è un'intercettazione automatica se ci sono 5 o più giocatori non giapponesi di tipo di esistenza per il resto ha sempre esistenza terreno scornesso resistenza pioggia e pozzangri killer di stamina vediamo quanto ce l'ha più 20% diciamo che dà fastidio per questo motivo potrebbe essere un killer di stamina ottimo per questa cosa magari per far stancare i giocatori ma niente di che blueno vabbè l'abbiamo già visto avete già visto sicuramente un giocatore già stato proposto all'inizio dell'anniversario di dicembre così come Roberto Carlos insomma se vogliamo parlare dei giocatori se vale la pena pullare o no io vi direi di aspettare comunque l'arrivo dei giocatori del Real Madrid e valutare un pochino tramite le vostre squadre se ne vale la pena o no magari andare a incassare con i bond e con le SS che anche se non vi ho detto che tutti i giocatori che ci sono qui sono tutti quanti con SS rispettive questi due intendo e penso anche Roberto Carlos vediamo un pochino Roberto Carlos dovrebbe essere no invece è una super solitarietà normalissima diciamo che questi due Raul e Evangel sono giocatori che hanno la SS rispettiva dei propri colori di club ok quindi andiamo a vedere infine il giocatore che secondo me vale più la pena andare a prendere cioè figo mettiamola così perché Flagon non si può sentire è un giocatore secondo me molto interessante anche per via dei parametri che ha a disposizione ha praticamente un 8000 di dribbling un 7 a 6 di tiro un passaggio da 8400 ottimo passatore in difesa non spicca in niente in forza fisica invece ha un'ottima potenza e soprattutto un'ottima maestria niente ragazzi con un passaggio del genere lui è un passatore allucinante andiamo a vedere le statistiche che ha una passiva fantastica forse lo esauriamo per quanto 30% ottimo ottimo questo è un grandissimo giocatore l'ho visto più o meno stamattina aprendo il game ha un dribbling di tipo S ottimo momentum passaggio ottimo tiro non so neanche a devi di farmare il tiro perché guardate che momentum che ha è un'intercettazione superba e credo che comunque adesso non ho visto bene ma ci sarà sicuramente la possibilità di prendere l'intercetto S dal mercato dribble andiamo a vedere le sue latenze ha un legame se ci sono troppi giocatori di tipo agilità anche qui molto generico si fa abbastanza facile però è un 2% poi diminuzione dei parametri i giocatori del Catalogna o Catalogna B in questo caso Tsubasa e Rival parametri meno 7 molto interessante molto molto interessante queste due latenze sicuramente come gli altri due giocatori che sono usciti oggi saranno usufruibili per qualche evento sicuro e annullamento del sigillo annulla fino a due sigilli tanta roba tanta roba insomma questo per essere forse un giocatore pay è quello che secondo me tra tutti vale la pena provare a prendere logico se avete la possibilità di incastrare questo giocatore nella vostra main fate un grandissimo salto di qualità perché un attimo passatore volendo si può rinunciare a Rafael magari se si ha una base di club blu provare a mettere lui e avere uno slot libero per qualche altro giocatore che può servirvi quindi ragazzi questo era l'aggiornamento di oggi tanta tanta roba ripeto se avete comunque intenzione di essere indecisi scusatemi se pullare o meno per quanto riguarda il banner dei giocatori nuovi che sono usciti ripeto secondo me non ne vale molto la pena sinceramente non sono questi giocatori che vi svoltano la main più che altro se avete naturezza magari andare a provare a prendere Roberto Carlos potrebbe essere una buona idea visto le latenze che dà al giocatore in questione insomma naturezza con il 2% di Roberto Carlos rende ancora di più e io sono indeciso se andare a pullarci proprio per questo motivo qua però ho intenzione di aspettare i giocatori del Real Madrid quelli ufficiali in modo da capire se vale più la pena andare a spenderci quella di Rimbol per quel giocatore lì o per quel Roberto Carlos piuttosto che questo che quello che c'è adesso nel banner sono pressa poco gli stessi giocatori però sinceramente i giocatori che usciranno lunedì sono giocatori in inizio limitata e adesso che li latentizzano io i tempi non ci pullai però adesso sinceramente con la funzione con la funzione delle monete un'idea me la faccio anche per quanto riguarda la collezione insomma mettiamola così niente ragazzi io vi saluto questo è l'aggiornamento di oggi spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciatemi un bel like per supportarmi visto che ce la sto mettendo veramente tutta per portare contenuti che possono interessarvi soprattutto per tenervi compagnia perché comunque il gioco piace a tutti e fa piacere comunque dar la possibilità a chi ne ha bisogno magari di capire meglio a cosa servono determinati giocatori e se vale la pena pullare eccetera 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 niente ragazzi non mi dilungo ancora di più spero che ripeto il video vi sia piaciuto buon game a tutti ragazzi ciao ciao